Non a caso se facciamo un altro punto facciamo il record di questa liga che è partita di noi quindi penso che una volta che raggiungi questi punti è solamente perché ha fatto una stagione fantastica Siamo veramente sorpresi da lui perché prima non lo conoscevamo tanto quindi quando è arrivato diciamo forse un po' tutti, tutto l'ambiente, tutti erano un po' pessimisti ma poi ha dimostrato con il tempo che è un grandissimo allenatore, una grandissima persona che ci ha postato molto, ci ha postato tanto lui è uno che è molto simile a Carlo e a Ancelotti nel modo di preparare il partito è uno molto tranquillo che ti fa scendere in campo con la giusta tranquillità e quindi questo per una squadra con così grandi campioni penso che sia la cosa più importante Siamo una squadra nuova che da due anni fa la Champions League poi sono i giocatori che ci interranno molto in questo c'è l'Ibra, Tiago e altri giocatori che stanno qui anche per questo per cercare di aiutare questa squadra a vincere questo progetto possibile Sicuramente l'Ibra non è importante solo per me, ma anche per questa squadra è un giocatore che difficilmente può farne a meno è un giocatore straordinario, è come se a Barcellona toglie il Messi oramai togli Cristiano Nato, sicuramente la differenza si vede Quando giocare al calcio per la Super Mondiale penso che sia il sogno di tutti quindi aspetto queste convocazioni con tranquillità anche perché non vado a fare la guerra diciamo, quindi sono cose che fanno parte del calcio sono cose che se vengono, sono cose che ti fanno veramente piacere se non vengono, sai che devi fare un cosa in più per in un futuro per cercare di partecipare a questa competizione poi quando riguarda l'Italia, l'Italia è una squadra che parte sempre diciamo con il scetticismo di tutti e poi arriva sempre in fondo, è una cosa che un po' ci frena perché a questa società ha sempre voluto cercare di portare i migliori giocatori in questa squadra quindi sarà qualcosa che dà fastidio anche ai nostri dirigenti Grazie